Ecco, buongiorno, siamo in compagnia per cronate rurali del dottor Marco Bussone, che è il presidente dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità e Eventi Montani. Buongiorno, dottor Bussone. Buongiorno e grazie. Ecco, con lui parleremo quest'oggi della problematica che interessa tutti i comuni più piccoli del nostro paese, che riguarda lo spopolamento e anche la perdita di alcune professioni peculiari per il territorio, come la farmacia. Ecco, dottor Bussone, la comunità montane fanno spesso conto con criticità che sono dovute ovviamente all'orografia del territorio, che rappresenta di questi comuni in zone remote del nostro paese, molto spesso anche soggetti allo spopolamento. Ecco, questi due fattori come incidono poi sull'accesso alla salute da parte dei residenti di questi piccoli comuni? Noi abbiamo avuto nel corso degli ultimi decenni, in particolare dagli anni 50, un abbandono, uno spopolamento molto accentuato in tutte le valli alpine e appennini, che è un abbandono che poi si trasforma in carenza di opportunità, di servizi, investimenti che molto spesso si sono concentrati nelle aree urbane, lasciando le briciole e un po' di assistenza alle aree montane. Devo dire che negli ultimi anni si è invertita questa tendenza con una presa di consapevolezza da parte delle istituzioni, sia centrali, sia nazionali, sia regionali, che hanno guardato nuovamente ai territori rurali, alle aree interne montane italiane, come luogo dove fare innovazione, dove vivere, dove fare impresa. E di conseguenza devono essere attuate una serie di misure che riguardano, da una parte, il mantenimento di servizi, scuola, trasporti, sanità. Tre pilastri e dall'altra misure per garantire lo sviluppo economico e la crescita di nuove imprese. In questo, l'abbiamo capito ancora di più negli ultimi mesi con il lockdown e con la pandemia, nell'emergenza sanitaria abbiamo colto quanto sono importanti i presidi di salute, per la salute pubblica e territoriali. A partire dai medici di base, dalle farmacie di comunità, quale luogo di riferimento, punto nevralgico dove si incontrano anche in piccoli paesi le comunità, secondo un antico ma tradizionale slogan per cui nei paesi parroco, sindaco, farmacista, maestro elementare, erano i pilastri. Non voglio fare dietrologie, ma in questa tradizione mi pare che ci sia lo spazio per un grande futuro di riorganizzazione dei servizi. Ecco, come diceva lei, la farmacia spesso in questi piccoli luoghi di residenza, tante volte nemmeno comuni, la farmacia è un po' il punto di riferimento, soprattutto per la sanità. Tant'è vero che poi i presidi più organizzati sono distanti, anche decine di chilometri, parlando in termini temporali, talvolta anche di ore. Ecco, ma perché si rischia proprio questa desertificazione rispetto proprio alla farmacia? Il punto centrale è che i servizi legati alla salute si sono concentrati nelle aree urbane, gli ospedali e in particolare anche nei fondovalle. eravamo abituati ad avere nei comuni, al fondo dei territori montani, quindi al fondo delle valli, un ospedale o comunque dei punti di riferimento. Ora sono venuti meno anche questi, per effetto di limitazione dei posti letto, chiusure di reparti. La farmacia e la rete di farmacie presenti nei piccoli comuni è invece ancora un baluardo che si sta trasformando. Non a caso lavoriamo intensamente con Federfarma per garantire, ad esempio, che in queste farmacie si possano fare più servizi alla collettività, quindi anche esami diagnostici, anche avere il controllo per la teleassistenza e la telemedicina come punto di snodo dal quale si erogano dei servizi alla popolazione, in particolare quella più fragile, quella anziana, che sappiamo essere in crescita in tutto il paese, ma i numeri, le percentuali, ci dicono che è in crescita, in particolare nelle aree montane e nei piccoli centri. Ecco, facciamo un piccolo esercizio di fantasia. Supponiamo di avere il mago della lampada, ci possese udire tre desideri. E secondo lei quali azioni sarebbero fondamentali per rallentare la deriva verso questo scenario o potenzialmente anche per invertirla? Io guardo con molto favore gli impegni che il governo e il Parlamento si sono presi negli stati generali della montagna che abbiamo celebrato a Roccaraso e prima ancora a Roma in diverse tappe in Italia come sintesi di quelle giornate e tra gli impegni c'è appunto un medico di base, un'ambulanza, una farmacia in tutti i piccoli comuni. Io credo che questo impegno voglia dire che lo Stato investe, lo Stato torna a investire delle risorse e sostiene anche le imprese affinché non ci siano sperequazioni territoriali. Noi oggi viviamo due grandi disuguaglianze nel paese, una fra nord e sud, fra settentrione e meridione ed è evidente, è storica e dobbiamo assolutamente colmarla o quantomeno ridurre la sperequazione territoriale. Ma la perequazione necessaria è anche quella fra aree montane e interne del paese con le aree urbane. Il diritto di accesso ai servizi fa sì che per banche, trasporti, scuole e appunto salute, inteso come diritto con tutto quello che ne consegue, lo Stato fa la parte di un paese che secondo la Costituzione investe laddove ci sono delle carenze, laddove i cittadini possono vedersi ridotti e hanno visto ridotti ai noi i loro diritti. Su questo il diritto alla salute è il fondamentale e lo abbiamo, come ho detto, riscoperto, riscritto con determinazione negli ultimi mesi, a questo punto devono arrivare già a partire dalla legge di bilancio nel piano nazionale di ripartenza e resilienza ripresa nel post emergenza sanitaria che speriamo si chiuda al più presto, devono arrivare gli opportuni investimenti e le opportune decisioni, anche gli opportuni parametri. Non dimentichiamoci che i livelli essenziali delle prestazioni riferite ai servizi sono previsti in Costituzione e bisogna nella prossima legge di bilancio, c'è già qualche barlume, inserire le risorse per garantirli questi livelli essenziali, differenziandoli fra città e piccoli comuni, fra aree urbane e aree rurali e montane. Ecco, l'ultima battuta. Come Uncem, che cosa state facendo per andare in questa direzione? Quali proposte e anche quali azioni avete magari già messo in atto? C'è un intenso lavoro su due grandi pilastri, quello che dicevo, dei servizi e dello sviluppo socio-economico. Entrambi si tengono, se noi riusciamo a guardare ai territori, come luogo dell'innovazione, non soltanto ai borghi come spazio in cui passare qualche giorno di vacanza, di relax e di riposo, bensì come luoghi, quei borghi, quei villaggi, quei paesi, delle Alpi, degli Appennini, isole comprese, come luoghi dove si può vivere, si può vivere con condizioni anche migliori di quelle delle aree urbane, si può avere diritto ai servizi, si può accedere in maniera efficace anche su piattaforme online, penso appunto alla salute, alla sanità, si può accedere ai servizi anche grazie a dei sistemi legati all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione. Una delle battaglie che facciamo, mi sia permesso il termine battaglia, perché di questo si tratta, è appunto quello per superare i divari digitali, i divari digitali che consentirebbero, una volta superati con un piano banda ultralarga che marcia più veloce di quello che è oggi la velocità del piano bull nazionale, ricordo due miliardi e mezzo di investimenti che si stanno attuando, ma con troppa lentezza, questo piano permetterebbe di ridurre, ridurre notevolmente le differenze di accesso ai servizi e consentire una buona qualità della vita, anche un telelavoro più efficace, una condizione migliore di vivibilità nei borghi e nei villaggi delle aree montane e interne italiane. E da questo, come dicevo, passa anche una farmacia dei servizi, un medico di base più presente, una telemedicina, una telediagnostica più diffusa e più utilizzata non soltanto a livello di sperimentazioni, e poi con il 5G, si parla già anche di 6G, anche degli strumenti più avanzati che consentono alle comunità di avere maggiori opportunità, al pari di chi vive nelle aree urbane, scende dal proprio condominio, fa 50 metri e ha una fermata di autobus dove raggiunge qualsiasi servizio. Nelle aree montane sappiamo che non è così, ci sono molte difficoltà ancora da colmare, ma io credo che in un patto fra pubblico e privato, e fra il pubblico metto i nostri enti locali, i piccoli comuni che hanno imparato a lavorare insieme e che costruiscono delle soluzioni all'avanguardia, innovative, privato, quindi con tutti i soggetti che investono su quei territori, io credo che in questo legame ci sia il futuro. Se poi ci aggiungiamo, il terzo settore, quindi il volontariato organizzato, che è il vero tessuto sociale, la vera rete dei territori, insieme all'Accademia, che individua nuovi strumenti di azione, le università italiane, tantissime nelle aree interne, noi abbiamo un mix che dice che il nostro paese risponde alle differenze e alle peculiarità del territorio che in Italia vede nei 7.000 campanili non un peso, non un luogo dell'abbandono e di quella sugli ultimi che descriveva Nuto Revelli, bensì 7.000 campanili che insieme sono luogo della costruzione di nuove politiche, nuove istituzioni, nuova economia e nuova socialità, nuova società. L'abbiamo scritto, l'abbiamo visto scrivere nella legge italiana sui piccoli comuni, tra le più avanzate in Europa, ora devono seguire, seguiranno, io ne sono certo e lo costruiamo insieme a Governo, Parlamento e Regioni, devono seguire gli opportuni investimenti, le opportune scelte e differenziazioni anche normative. Non ultima, quella fiscale, un fisco differenziato, una tassazione differenziata sia per il sistema di enti locali sia per le imprese che operano sui territori è una delle condizioni se non la condizione per garantire il superamento delle sperequazioni. Benissimo, grazie dottor Bussone per essere stato con noi e alla prossima. Grazie, grazie di cuore a voi e a prestissimo. Grazie a tutti.